La soprintendenza del Polo Museale Napoletano ha incontrato stamane una delegazione di consiglieri comunali delle commissioni Cultura e Ambiente per cercare un accordo sulla riapertura al pubblico dei preziosi giardini della Certosa di San Martino, oggi accessibili soltanto ai visitatori del museo. Si tratta evidentemente di mediare fra l'esigenza di tutelare un'area di grande valore storico ed artistico e l'opportunità di consentire ai cittadini di godere di uno degli angoli più belli della città. Sulla terrazza superiore della Certosa i monaci coltivavano le erbe medicinali. Più in basso si staglia il raffinato orto del priore che sovrasta l'antico vigneto sulla collina. La richiesta di aprire i giardini al pubblico proviene da un gruppo di cittadini attraverso il comitato civico San Martino. Come iscritti saremo 200-300 persone ma quando facciamo i nostri banchetti le firme sono molte più chiaramente. Abbiamo iniziato questa serie di incontri con la sovrintendenza e con il comune di Napoli per strutturare un progetto che permetta l'accesso gratuito ai giardini della Certosa. Le commissioni hanno effettuato un sopralluogo valutando assieme ai responsabili ai tecnici della sovrintendenza le diverse possibilità operative. Abbiamo chiesto per il momento informalmente a alcuni dirigenti e dipendenti della sovrintendenza quindi del ministero di dare delle opzioni per capire come costruire poi eventualmente questo percorso e dare la possibilità appunto ai cittadini di soffrire di questi spazi. La nostra esigenza prioritaria è quella di salvaguardare i beni culturali e il giardino di San Martino non è un puro e semplice giardino, è un giardino storico, antichissimo, dei certosini. La nostra volontà precisa è quella che tutti ne possano fruire sempre di più però nella maniera in cui si possano salvaguardare queste due esigenze, tutela e valorizzazione.